Il Centro per l'impiego di Nereto sarà il primo a beneficiare degli interventi di riqualificazione strutturale nell'ambito del piano della Regione Abruzzo finanziato con 12 milioni di euro del PNRR. A sugellare il primato del Comune Vibratiano, che ha bruciato i tempi nella consegna dei documenti, è stato l'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale in visita alla sede di Palazzo Liberati accanto al sindaco di Nereto Daniele Laurenzi. Lavori per circa 250 mila euro che interverranno in particolare sulla climatizzazione e sull'abbattimento delle barriere architettoniche. L'obiettivo è partire entro la fine dell'anno. Ci saranno tante piccole riqualificazioni, la prima è quella della realizzazione di una rampa più a norma e più fruibile per i disabili rispetto a quella presente, quindi parliamo di abbattimento delle barriere architettoniche e tutta una serie di interventi sulla struttura. Quello di Nereto è un CP baricentrico per tutta la Val Vibrata. Finora ha profilato 763 utenti nell'ambito del programma GOL, Garanzia Obiettivo Lavoro, uno degli strumenti adottati dalla Regione per rilanciare il mercato del lavoro in Abruzzo. Adesso sono partiti gli incentivi all'assunzione perché io parallelamente alla ristrutturazione del centro per l'impiego ho voluto dare un contributo a tutte quelle aziende che assumono under 36 ma anche over 36 perché tanta gente anche di 50 anni vengono da me e mi dicono non ho i contributi per andare in pensione e nessuno mi vuole riassumere perché gli incentivi sono previsti solo per i giovani. Invece io ho voluto con questi avvisi che sono usciti ma che si potranno continuare a utilizzare perché le assunzioni si possono fare anche a ottobre, novembre, dicembre e poi fare domanda con lo sportello di gennaio andare incontra anche l'esigenza degli over 36.